No, un lavoro vero non l'ho mai fatto. Ok, quindi sei nel programma giusto. Trovati un lavoro vero. Ah, il titolo è quello, bravi ragazzi, un bel titolo avete scelto. Siamo qua per trovartelo. Trovati un lavoro vero è il video podcast che racconta percorsi di lavoro e di vita non convenzionali mentre abbasso il volume del computer perché sennò si sente qua, cioè è fantastico. Un professionista. Bentornati. Bentornati da me che è un po' che non mi presento. Mi presenti tu? Sì, bentornati. Ecco con noi Alberto Barazzetti. Grazie. Federico Biserni, detto Bise, siamo già vestiti da carnevale anche se in realtà a carnevale sarà settimana prossima. Io non ho messo... A carnevale, Halloween. Halloween che sarà settimana a carnevale, ciao. Non mi sono messo quello io perché tanto occhiale e naso lungo non sarebbe cambiato niente. Ma soprattutto è qua con noi Bolla! Buonasera. Yo! Intanto ci togliamo questo. Sì, grazie. Ciao. Modalità serietà. Oddio. Forse ci proviamo. Bolla, carissimo. Di dove sei? Io voglio sapere questa cosa, ultimamente non lo chiedo, secondo me non lo chiedevo neanche. Sono nella Barona. Sei nella Barona. Io ho anche giocato qualche volta a calcio in Barona. Hai notato che è il quartiere con più campi da calcio che esiste al mondo e la Barona. È vero, confermo. Ma tu non giochi a calcio? Perché è sempre così, no? Invece sì, giochi a calcio. Ma calcetto ogni tanto con gli amici, sì. Ok. Sì, no, non intendevo a livello A. In serie A non mi hanno ancora chiamato. Sì, sì, ho sempre fatto la punta, quello che suona, che segna a porta vuota. Non ti abbiamo chiamato come calciatore in serie A. Se tu lo fossi fatto, potremmo provare a farla con il calciatore. Anche se poi non lo sei. Noi ti abbiamo chiamato perché tu sei musicista. Sì. Giusto? Ok. Che studi hai fatto? Che studi ti hanno portato alla musica se è stato quello che ti ha portato? No, ho iniziato a cazzo facendo punk. Da ragazzino. Allora questa cosa ci accomuna un po'. Sì. Perché suono basso con trabasso? Ecco, soprattutto. Punk rock, anche io col punk rock. Ci arrivavamo con calma. Devo fare la band con gli amici. Due suono a mangiare la chitarra. Uno io voglio cantare. L'altro a me piace la battiglia. Vabbè, io suono il basso. Cosa dobbiamo fare? Poi è diventato un mestiere. Ho le maniche di natura, mi vanno belle veloci. Poi ho le passioni, una roba o l'altra. Mi sono entrato alla civica a 19 anni. Perché al jazz non c'era il conservatorio ai tempi. E da lì vedi il contrabbasso e dici vabbè, allora voglio imparare. Ho studiato con Lucio Terzano che era il contrabbassista di Chad Becker. Aperol. Lo zio Lucio. Un secondo padre. La faccia a Rojazz. Questa è bellissima. Stiamo già iniziando proprio col botto. Non so come finiremo. E quindi dopo, cioè proprio, hai studiato? No, già suonavo in giro. Avevo una band che dal punk è passata a fare ska. Sei feste liceali. Si suona di qua, di là. E si limonava di brutto. Quindi comunque. Adesso basta. I tempi al liceo. Suoni, no? Il cliché della band, del liceo. Sì, quelle cose lì. Il cliché. Comunque suonare, diciamo che è uno dei motivi per cui iniziano tutti. È quello. È quello. Cioè, bene gratis. Le donne. Poi nessuno lo dice. Qualcuno fa l'artista. È ispirato dalla musa, quelle cose lì. Non è la passione per la musica che ti fa iniziare a suonare. No, secondo me no. Però è bello. Comunque è bello suonare, è proprio bello. Sì, no. E confermo che è molto divertente. Esatto. Tutti i tuoi giocattoli. Esatto. Ma il passaggio dal punk al contrabbasso è questo che mi incuriosisce. Ma no, ma io per caso. Mi ricordo se sta Roma mi avevano detto. No, se impari a suonare il jazz puoi fare tutto. Col senno di poi è una cazzata. E che ti ha detto questa frase che andiamo a prendere. Non mi ricordo, no? Anni fa. Però, vabbè, mi piaceva suonare. Poi comunque facevi Scar Rock Steady. Era uscito ai tempi Blue Beaters. Roba. Comunque è sempre musica afroamericana. Quindi c'era qualcosa in comune. Puoi suonare bello. Cioè, e da lì è nato tutto. Inizia a suonare di qua, di là. Un progetto va bene, un progetto va male. Quello, quell'altro. E ti ritrovi che poi guadagni anche due lire. E fai solo quello. Che bello, eh? Quindi adesso il tuo mestiere è il musicista, proprio. Sì, adesso, da un po' di anni. Ma in realtà il lavoro vero io non l'ho mai fatto. A parte durante la pandemia, come dicevamo prima, no? Non potevo suonare. No, il lavoro vero non l'ho mai fatto. Ok. Quindi sei nel programma giusto. Trovate un lavoro vero. Ah, il titolo è quello, bravi ragazzi. E' un bel titolo, avete scelto. Siamo qua per trovartelo. Ma continuo a suonare il contrabbasso, che è una figata. E poi ti sei appassionato di jazz o...? No, mi piace suonarlo. Il jazz... Woody Allen aveva detto una bella cosa. Come le scoreggi, piace solo a chi lo fa. E' un po' estrema come cosa. Mi piace suonarlo. Ascoltarlo anche, non tutto. E a volte mi rompe i coglioni. I gusti sono gusti. Però da lì, comunque, mi sono un po' molto avvicinato al funk, all'hip hop. Tutto quello che, diciamo, musica afroamericana. Sì, perché il funk è un sottogenere, in realtà, del jazz. Sì, ma tutto nasce dal blues. Poi arriva il jazz. Poi arriva... Cioè, l'hip hop dove nasce. In che contesto nasce? Lo stesso nel quale decenni prima è nato il jazz. Cioè, ma il disagio afroamericano dietro. Però è un connubio bellissimo. Perché c'è della cultura africana che riguarda il ritmo, eccetera. Della cultura europea che è l'armonia, le note. E più tutti, mischione che, diciamo, poteva capitare solo negli Stati Uniti. Perché hanno avuto così tanta migrazione da tutto il mondo. Quando metti insieme tante cose, qualcosa di bello che è fuori, no? Mi hai fatto venire in mente due cose. Uno, Woody Allen, che ha suonato recentemente al Blue Note. Sì, ha suonato al Blue Note. Il clarinetto. Malissimo, tipo. Ma è stata una polemica. Un'esibizione roscena. Io il giorno dopo suonavo per Blue Note, per i vent'anni di Blue Note, che hanno preso un tram, gli hanno messo la livrea a Blue Note, ha girato per Milano. E parlavo con la ragazza che si occupa della programmazione di Blue Note, eccetera, di questa cosa. Molti jazzisti hanno criticato, ah, perché chiamate lui, suona male. È Woody Allen. Primo è, cioè vuole essere una lancia in favore di Blue Note. Primo è Woody Allen, quindi... Poi secondo me, ma Blue Note è una roba privata, non è il paladino dei diritti dei jazzisti. Quindi farà un po' quello che vuole Blue Note. No, tra l'altro sono anche... Giustamente ha fatto il soldato della Madonna con un biglietto stratosferico. È bella lì, ha un fatto bene. Cioè, anch'io sarei andato, ma... Ah, suona male? Ho capito, è Woody Allen. C'è un pezzo di storia, della cultura del Novecento, che sta sempre impresso nella storia, probabilmente. Certo, no, no, voleva essere una curiosità, non una critica a Blue Note, poverini cazzi, tra l'altro. No, 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 ma volevo appunto dire, non a te, cioè, è stato criticato per questo motivo e ci tenevo a spezzare un'arancia. A favore di Woody, che ormai c'è anche una certa stanza. A favore del Blue Note. Eh, quant'anni, poverino, una nuova antina. Tu hai girato un sacco i locali di Milano, cioè hai suonato praticamente ovunque a Milano. Com'è la vita dei locali notturni a Milano? Come, cioè, è viva, è in salute. Secondo me il Covid ha dato una mazzata all'abitudine della gente a far tardi. Questo è un dato di fatto. E i ragazzini che magari a vent'anni, ventidue, per due anni stai chiusi in casa, per noi magari due anni contano di meno a quelletta lì, contano tanto. Si fa tutto più presto. A me piace la notte. Io quando avevo le serate fisse al bico che organizzavo io, salivo sul palco a luna. Però hanno una, una e mezza. La gente mi iniziava a arrivare a mezzanotte. Adesso è impensabile. Adesso è tutto più presto. Così bella la notte. A me piaceva. Adesso sono becchio e non mi piace più. Mangio alle sette e alle nove sono già. Infatti adesso, guarda, per me sarei già letto da un'ora io. Probabilmente, però fa niente. Quindi sono a favore di questa cosa. No, un'altra chicca di prima che tu hai detto, gli africani, che hanno il senso del ritmo, mi hai fatto venire in mente una canzone di Egio. Sì, ma dei bonghi. Che dice, basta, questo cazzo di bonghi, non siamo mica in Africa. Cantati i problemi ma non quello del ritmo. Però è vero, il blues e il jazz sono nati così. Ma guarda, più che senso del ritmo, che poi, diciamo, da questo punto di vista, più che una cosa etnica, che non esiste, una cosa culturale dove cresci, per loro il ritmo fa parte della cultura in maniera molto più preponderante rispetto a noi. Un esempio, nella cultura africana, anche ancestrale, parlare a tempo è già musica. Se pensiamo all'hip hop è quello, cioè, quindi è un altro modo di vedere le cose. Qua hanno fatto altre cose, qua e anche l'India abbiamo portato avanti più l'armonia. Indiani ancora più matti, fatti lingue indoeuropee, magari un legame c'è. In altri posti del mondo è più la questione ritmi che è stata portata avanti nel nuovo mondo, diciamo, tra le due Americhe, Caraibi, isole varie, è stato un connubio, secondo me, incredibile. Non si smette mai di scoprire cose nuove. In tutto ciò, Gigi D'Alessio, dove... Ho visto il concerto prima del... Dove lo mettiamo? Io sono andato apposta. Era quello, Gigi D'Alessio e Nilo D'Angelo insieme. Oh no! Si chiamava Figli di un re minore. Bellissimo. Sì, sono andato più a vedere il pubblico che il concerto, dovevo dire, però... Cioè tu davi le spalle agli artisti e guardavi il pubblico. No, vabbè, è stato commuovente. Vabbè, Nilo D'Angelo... Cioè, Gigi D'Alessio sì, ma Nilo D'Angelo è Dio. È stato bellissimo, una certa... Poi facevano, non prima uno, poi l'altro. Un pezzo a testa, con due band diverse. Nilo D'Angelo, quelli vecchi, aveva la band con i suoni anni Ottanta. Proprio, cioè, si è messo a fare proprio quello lì, col caschetto. Che poi era innegato quella cosa un pochino Nilo D'Angelo, ecco. È un grande artista, secondo me. È un bravissimo artista. Nilo è arrivato in Let It Be, The Beatles. Gesù Cree. Chiamandola Gesù Cree. Lì è ancora il periodo caschetto. È stato il primo dei neomelodici, lo dice anche lui, non rinnego. Cercatevela, ecco, questa è una chicca, Gesù Cree. Però ha fatto delle cose meravigliose, non fa più quella roba neomelodica, eccetera. Senza giacca e cravate, è un capolavoro di pezzo, testo, produzione, melodi, è tutto bellissimo. Gigi D'Alessio, secondo me è un po' più fatica. Però, insomma, non è un pirla, dai. Ma tu hai una band? Bollatrio. Bollatrio. Sì. Ti troviamo su Instagram, Facebook. Sì, Spotify. Ovunque. Il 3... Aspetta, faccio un momento proprio. Vai, vai, pubblicità. Il 3 novembre al Bellezza. Grande. E sì, tanto questo uscirà prima. Trio con diversi ospiti, eccetera. A che ora? Presto, perché ormai è presto. Sì, infatti saremo sul palco alle 11, una tristezza. Venite presto, per favore. E no, la cosa bella, per la prima volta organizzo con Felice dei Mocambo Brothers. Ci sarà questa prima coproduzione con una realtà di DJing dedicato all'hip hop, i più belli che sono mai esistiti a Milano. Lo organizzavano le serate in questo parcheggio abusivo a sesto, tutto con vinili, roba a 89 anni. Ah, bello, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Ne parlavamo da anni di fare una roba insieme, è arrivata l'occasione, quindi sarà una coproduzione con Mocambo Brothers. Vediamo, cioè se lo sono casato. Il 3 novembre, tutti all'Arcibellezza. In palestra la facciamo, come all'underground, sì. Per la prima volta la facciamo giù, perché di solito facevamo un teatro. Bello, bello. La palestra dove girarono Rocco e i suoi fratelli. Veramente? Sì. Ah, io non lo sapevo. Sì. Quindi la seconda chicca di quella palestra, perché il pianoforte a coda che c'è lì è quello del Capolinea, lo storico locale jazz di Milano, che io non lo sapevo. Sono passati tutti, boh, negli anni 80, primi 90, dai nomi grossi a Gemare, ci hanno suonato tutti, era proprio il tempo del jazz, forse italiano addirittura. Hanno quel pianoforte lì, c'è un bel cartellone di fianco con tutti i nomi che hanno scritto da un mecco e il timer al bianco che in giù. Quanto ti eserciti? Ma sono pigro, no, ma dovrei farmi di più, ma sono pigro, ho anche altri interessi, dovrai studiare di più. Ma il jazz è anche così, però, anche un po'. No, 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 ma io non faccio solo il jazz, chi fa solo il jazz deve studiare tanto, lo fa bene, massimo rispetto. Io faccio anche altri generi, ho anche altri interessi nella vita, al di fuori della musica, che coltivo con passione, quindi tipo cucinare, tipo l'astrofisica adesso mi piace tanto, la biologia, insomma. Perdo tanto tempo in altri, ultimamente gli scacchi, sono preso bene quegli scacchi. Situazione jazz in Italia, appunto, visto che non parleremo solo di jazz, finisco qua il discorso jazz. Massimo, perché sono un po' fuori, vado in giro con la gente che rappa, cioè lo faccio, mi piace tanto suonarlo, non sono proprio dentro una scena, che comunque è un altro mondo. C'è gente molto brava in Italia, questo è fuori da ogni discussione, che in Italia, come del resto, per quello che so, che ascolto anche in Francia, comunque c'è una bellissima scena che si difende molto bene in Italia, se vogliamo fare queste lotte di patriottismo. Bravi ragazzi, continuate così. Visto che adesso il patriottismo va di moda, noi italiani. C'è una bella scena, sì, in Italia, cose anche molto interessanti. No, dicevi che hai anche tante altre passioni, prima stavamo parlando che hai appena inaugurato una mostra a Monza. Sì, di arte digitale. Di arte digitale. A Monza. Anche qua dov'è, dov'è, oltre a venirti a ascoltare. Si chiama Al Fly a Monza, ma me l'ha chiesto questo mio amico Luca, il suo al posto, ma perché queste cose non le spogli? Ho iniziato a fare così a cazzo, quando c'era la panna in bianco, dovevo fare niente. Le ho stampate su Forex, non so pure anche cos'era il Forex, fino a qualche mese fa. No, sono carine, il soggetto è sempre tipo bestie che suonano il contrabbasso in universi assurdi. I lavori, secondo me, sono molto carini. Quindi andate a cercarvi anche i lavori, anzi andate alla mostra direttamente. Parla l'arte e metti la da parte. Vediamo, vediamo. Sono sempre stato anche appassionato di arte, eccetera. Però è la prima volta che ti sei cimentato. In passato scrivevo di arte, quando avevo un amico pittore, mi ha presentato un amico che avevamo fatto una rivista in cui scrivevo. Avevo anche curato una mostra. Volevo fare entrambe le cose, suonare e scrivere, poi se suoni sempre ti svegli il giorno dopo non hai la testa di scrivere. Invece durante il covid hai detto, giustamente, che era un po' complicato magari andare in giro a suonare. Non potevi, cioè però il bello è che poi io ero in cazzo, perché poi lì ti sale la radio, io vedevo le chiese aperte e i posti per suonare. No, ma scusa, ma l'altare e il palco, anzi, i posti che si suonano hanno un'età media un po' più bassa rispetto a lì. Perché le chiese suonare? Siamo stati gli ultimi a poter ricominciare noi e soprattutto quando è ricominciato, no, con la gente seduta, che sembrava che ballare fosse. C'è stata un'incoerenza, io non sono Neno Vax e roba figlia, ma un'incoerenza proprio che certe categorie sono state pregevolate. Noi, metto noi, chiunque è quello che diciamo è intrattenimento, spettacolo, arte, gli ultimi stronzi. Beh, potevi suonare in chiesa. Ma sai che ci ho pensato? Non è una bell'idea, no? Ci ho pensato, mi mancava una cosa, l'amico prete. E senza quello non... No, poi mi ha appena nato un bambino, quindi mi ritrova un po' la larga. Senti, ma... Ti sei reinventato durante il Covid. Ho fatto il fattorino. Beh, questa è una cosa bellissima, secondo me. C'è una cosa che ti fa molto onore, perché comunque... No, un'ora, dai, già c'era a meno che il governo non possiamo usare il termine onore. No, secondo me sì, perché scusami, l'alternativa era appunto stare a casa. Sì, e lo Stato non mi ha dato niente. Eh? Sì, ho fatto il fattorino con Glovo all'inizio. E il primo è stato bello, perché poi era musicista, fan rider. Parte uno che fa l'articolo, mi chiamavano tutti. È stata Rai, Il Giornale, Mediaset, cazzi, mazzi. Non era anche divertente, avevo niente da fare. Quindi vi facevo intervistare da... Sì, l'unica è stata... M'hanno chiamato poi per fare la Panicucci. La ventesima volta a dire le stesse cose, perché non aveva notizia. Chiamava sempre lei. Era sempre la Panicucci che ti chiamava. C'era una relazione, ma chiaro. E poi, se dicevo, sembra la stessa roba, perché loro, più che parare di dati, non avevano un cazzo da dire, serviva il caso umano. Era di cui parlavano. Erano tutti in casa, non succedeva niente. Cioè, i vari autori, giustamente, si riciclamano le notizie, quindi mi hanno chiamato in un mese. Però ho detto, via, l'ennesima volta che mi chiamano. Mi chiamano, stico assieme a... Cioè, un gettone, magari. 10 euro. Non ho più sentito. Ti hanno messo nella blacklist. Ma che poi dici, ma scusa, ma siete media, se ho dei problemi, non sapete. Ma cazzo, un 200-300 euro con l'affitto da pagare, mi potete anche dare, no? Per ripetere sempre le stesse stanzate. Sì, eh, non posso qui suonare, guido la bicicletta. E niente, no, non ho mandato via. Anche le TV estere non ti hanno pagato neanche le TV estere. Però sei diventato famoso anche in Iran. Sì, ho fatto Iran International. È bello che inizio a parlare, c'è la voce in farsi che mi dobbia. Tu sentivi dietro la voce, in diretta? No, no, non era in diretta. Sarebbe stato bello, sarebbe stato divertente. No, no, è stato divertente. Però, dai, il periodo... Cioè, l'anno dopo è stato un casino, perché poi iniziano a chiudere... Perché all'estate si suonava, chiudere, chiudere, chiudere... Eh, ma non finiva più. Lui chiaramente... Mi ricordo la zona gialla e allora aprivano i posti da mezzogiorno alle sei. Cioè, sì. Sono riuscito a suonare. Mi ricordo la prima l'ho fatta a dicembre a Genova, a Nervi, sulla passeggiata. Si è riempito così. Poi se ne sbattevano, si mettono a ballare, giustamente la gente... Suonavo in duo flamenco. Però la gente... O di campare cosa si fa? Ma era surreale, perché alle tre del pomeriggio sembrava alle tre di notte. Cioè, la gente ne aveva già bevuti e iniziava a fare gli shot. Alle tre del pomeriggio, col flamenco. Ma potremmo raccontare di aver visto una cosa veramente surreale. Ma ho letto che... Ho letto una tua intervista, sempre in quel periodo lì, che se fai rider devi pagarti tu lo zaino. All'inizio, sì. No, allora, adesso te lo compri e costa anche meno. Quando l'ho fatto io, lo zaino più il reggitelefono da bicicletta, ti scalano 60 euro dal netto che ti danno a consegna. È terribile questa cosa. Ma soprattutto perché... Sono dei cani, quelli lì se ne approfittano di gente che ha bisogno. Sì, però sono i maledetti. Poi sono bravi alcuni ragazzi che ho visto, che si organizzano bene con le varie app, c'è tra la bici elettrica, la descana, e si alzano anche 2-2,5 al mese. Gli ragazzi africani sono molto bravi, sono sgamati. Sì, però si fanno un mazzo. Si fanno un culo, lavora 13 ore al giorno, ti meriti 2-2,5 al mese. Ci aprono tutti la partita IVA, tutto a posto, però vabbè c'è un disagio da altri punti di vista su altre persone, sì, grosso. Sì, immagino... Anche perché soprattutto all'inizio non c'erano minimamente tutele di nessun tipo. Perché adesso io non lo so, ma adesso ci sono. No, so che c'era... Non so, non ho seguito su com'è finita, però so che c'era un... Si sono aperti dei tavoli con i sindacati per... C'è chi la cosa la fa bene e ci guadagna anche bene lavorando veramente tanto, quindi... Tanto di cappello, perché poi ormai di sti tempi leggi che in maniera ironica sti qua con la terza elementare che commentano, scrivono le risorse in maniera ironica. Figa, se non sono risorse loro, si fanno un culo così, pagano le tasse alla partita IVA, fanno lavorare, perché in pandemia se ci pensi un botto di ristoranti, se hanno fatturato tanto così è perché c'è stata una rete di rider incredibile, gente che a casa non sa fare niente, si faceva portare la pappa pronta. Quindi comunque tanto di cappello da... per me è stata una cosa anche... la ricordo anche come divertente, ma una parentesi diciamo, a parte qualche bestemmia che è volata, però è stata una parentesi per qualcuno, lavoro e veramente tanto di cappello senza tutele, perché tu prenoti di giorno in giorno, hai la febbre così, non ti dà niente a nessuno. Anche se suoni però non ti dà niente a nessuno, non ti fai male. Quindi più o meno... È più divertente. Che schifezze mangiano gli italiani? Sono curioso di sapere... La prima intervista avevo fatto lì, me l'aveva fatta di sapore, mi aveva chiesto sta roba, fanno schifo. Fanno schifo, facciamo schifo. Non posso fare i nomi di catene, perché magari... Però roba... Un po' nei coglioni, però sì, sì, la gente proprio aveva un'educazione alimentare. Nel paese in cui, secondo me, quelli in cui si mangia meglio al mondo, cioè non oso immaginare all'estero, ma io mi ricordo l'odore di certi prodotti che mi usciva dallo zainetto di globo. Sì, madonna. Una volta era avanzato... E bisogna ancora di notte. Era avanzato un cestino di una nota a catena di fast food, che boh non l'ha ritirato, non mi ricordo, chiamo il tipo, Lady Glove, eh, magnatelo il tema, ha detto. Ok. L'ho magnato metà e la notte non è stata bella, non so se è stato bella. Forse è per quello che non hanno ritirato quelli che hanno ordinato. Eh, ma se l'hanno ordinato un motivo ci sarà. Anzi, volevo farti questa domanda, perché io sono musicologo, perché ho fatto finta di fare beni culturali in dirizzo musicologia, mi auto... Ripamonti, ho dato qualche esame. Bravissimo, esatto. Chi non ha dato qualche esame? Non lo so, io no, io sì, purtroppo qualche esame l'ho dato anch'io, faccio finta di essere laureato, cosa che non sono assolutamente. Però ho detto, vabbè, ho fatto un anno, gli sto con gli istituti, cioè alla fine, meno male. Quindi, ti dico che sono un grande musicologo, quindi so la differenza tra contrabbasso, il violoncello, magari i bise, non la sa. Le vuoi spiegare tu, bolla, a questi ignoranti di bise. uno è più grosso, l'altro è più piccolo. Perfetto. Poi, uno è accordato per quarte, l'altro per quinte. Però vabbè, c'è sempre, la maggioranza delle volte, cos'è un violoncello? ma la più bella che mi hanno detto è stata, una è un clavicemalo, zio, cioè va bene, cioè va bene tutto. Eh, ma uno vuole fare il sofisticato, no? E l'altra, una volta suonavo, ma ero molto piccolo, suonavo in un ristorante che non c'è più, che inaugurava, con contrabbasso elettrico, grosso, in acustico suonavo e c'era quella del grande fratello con le tettone, come cazzo si chiamava. Eh, fosse una sola, cioè Melita. Secondo me io me la ricordo anche. Super simpatica. Era mona. Sì, sicuro. Oh vabbè. Super simpatica, tra una ragazza, però a livello di tutto, quando mi fa, che bello cos'è, una chitarra elettrica. Scusi, ma non c'è neanche un cavo attaccato. Poi suonate nello stesso modo, tra l'altro. In acustico. Ah, perché tu lo stai suonando così in realtà, di la verità. Neanche quello stavo facendo, cosa che ho provato a fare, chiaramente. Visto in qualche foto di Renato Pozzetto, cosa fai, non lo fai. Ci provi. Ma si può suonare anche con l'archetto? Nasce così, io con l'arco sono un cane. Mi suoni con le dita, mi fai pizzicato. mi tiro al tendine quando uso l'arco, madonna, che non c'è altro. Perché c'è sia il francese che acquisiva il controvascolo tedesco, che t'era il contrario. Preso il tedesco, provo a studiare, e non riesco. Ho un po' pigrizia, un po' mi tira il tendine. Bello con l'arco, però, la scusa. Ma avessi modo è figo, però, è bello l'arco. Se tu provi a metti, perché, se è nota singola, così, senza fare troppe tarantelle, riesco, metti, se magari, un effetto sint, è una roba così, sembra un mug, sembra un mug, cioè, è bello. Divertente. A livello di suoni, tiri fuori dalle cose belle. Beh, c'è il chitarrista, vi tiro fuori questa chicca, dei Sigurros, un gruppo islandese. Sì, sì, sono famosi. Esatto, che lui suona in tanti pezzi, la chitarra elettrica. Con l'arco, sì. E poi sei anche milanista. Ma quella è la cosa principale. Soprattutto. Prima di ogni cosa. Nasci milanista. Ma mio nonno, mio bis... Cioè, è proprio famiglia, rosso-nera, che di più non si può. Io volevo arrivare qua, c'è tutta questa puntata solo per... Quando nei primi 50, il calciatore non era un VIP come adesso. E mio nonno, era lo sponsor del Milano, nel senso, faceva rappresentanti di una ditta di panettone, andava in campo, era diventato amico di Norden, Schiaffieno, Lidl. E mia mamma, si ricorda l'asilo, che abitava in Montegani, c'è una roba molto popolare, e andavano a cena a Norden, Schiaffino, e Lidl, mi fa ridere come lì ricorda, mi ha... Norden, un bestione. Lidl, un signore, Schiaffino, un piccoletto. Beh, è bello però, altri tempi del calcio. Norden, quantomeno attaccata, poi il Milan, madonna, il Bullitz, un cresciuto, il Milan di Sacchi, la prima roba che ho imparato. Io ce l'avevo il cappellino, con le treccine, pini Bullitz. Quello, e quello di Pippo, di Disneyland, con le orecchie, i due cappellini che dovevi avere, quando avevi più o meno, 6-7 anni. Bisequati, ti lascio sfogare sul Milan. Sul Milan, ma io e Bola, siamo due milanisti incalliti, ci conosciamo da tanti anni. Trovo, una bella batti. No, forse qualche volta li siamo anche visti. Forse sì, perché io sono gli primi anni, che avevo l'abbonamento, andavo in cura. Poi, io e Bola ci conosciamo da 20 anni precisi, 19 forse. A caso per una vacanza. E tra l'altro, no, chiudiamo qui la fase a Marcord, ci siamo conosciti, perché? Perché noi eravamo seduti al bar del campeggio, e ci si avvicinano, lui e il suo, il socio con cui era, Borro, chiedendoci se avessimo, hanno visto scrofani, e ci hanno chiesto se avessimo una sigaretta che fa ridere. E? E ce l'avevamo. Noi eravamo pieni, con scrofani con i tre. L'abbiamo finito. È stato bellissimo quella vacanza, perché facciamo, arriviamo, che voi non c'eravate ancora, che c'eravamo portati l'erba, ma pensavano di averla persa, non la trovavamo. arriviamo col traghetto, i pischiellini, iniziamo a mangiare, a bere vino, un mirto, il pomeriggio sbronzi come le merde, e il mio amico mette la mano in tasca e trova quell'erba che pensavamo di avere perso. Aveva cambiato i pantaloni. Sciambola. e quindi è stato alghiero, che bella era alghiero. Bella, bella, bella. È stata una bella estate, una bella vacanza, bel contesto. Ci hanno divertiti. Sì. Io ti ho dato anche l'opportunità di parlare di Milan, niente. No, parliamo di Milan, ma che bello, ma io vorrei parlare solo di Milan. Ma parliamo di calcio scommesso, adesso che stanno uscendo tutti i nomi, tra l'altro la metà sono calciatori della Lazio, io dico Lazio. Voi avete mai scommesso, non siete calciatori, potete. sì, tutt'ora. Io in un periodo scommettevo sempre 3 euro col mio amico, quando ho vinto ho smesso di scommettere, sono a credito con lo Stato, ogni tanto, a cazzo, se passo gioco, mi sono giocato chiaramente la vittoria dell'Inter, coppa in mano, perché così se avessi detto. È giusto, è così. Mi guadagnavo 400 euro e sarei stato un po' meno triste. Un pochino meno triste, ma meno male che... Invece abbiamo goduto, esatto. Sì, sì, è stato meglio perderli quei soldi. Il vostro giocatore preferito di tutti i tempi del Milan, un nome potete fare, dovete sceglierlo. Anzi, io ve ne faccio due, dai. Davvero milanista, quale sono? Però vado indietro. Ma il Dino ha messo per forza. Io ho amato tantissimo che un calciatore così non è mai esistito né prima né dopo essere vice e vice. Correva così, cioè, però faceva delle cose che nel calcio ho visto far solo a lui. Io ho visto dal vivo Ronaldinho. No, vabbè, sì, meraviglioso. E al Milan era in fase molto calcante. Però era vero. calanque, aspetta. No, meraviglioso. Andava uno a Lodice al Barcellona andata. Sì, però meraviglioso. Cioè, che bel giocatore. No, mi viene la pelle d'oca pensare a che tipo di giocatore era. Allora, per me Dino è stato uno dei veramente dei più belli da vedere, proprio che ti fa innamorare del calcio. Però, se devo dire, un calciatore del Milan tra i miei preferiti, non lo metto perché non è, non incarna il milanismo. Che non abbia avvento niente con lui, peccato. Secondo me non incarna il milanismo, cioè, io sono d'accordo. No, lui non incarna, secondo me. In quel periodo con Ancelotti, brasiliano, era il Milan dei brasiliani. Non dirmi maldini perché mi spara un colpo. Eh, però, ha capito, per il mio, cioè, io per esempio. La mia prima maglia non c'era ancora il nome dietro, c'era stampato un 3. Era la maglietta bambina, l'elementare. Gli ho fatto mettere il 3. Da qualche compagno maledetto all'elementare milanista invece mi ha fatto un super regalo, la seconda maglia del Milan di Roby Baggio. Con il 18 giocato. Bellissima, bellissima. No, io dico Maldini e Shevchenko. bravo. Per il mio anche ho vissuto io, poi, perché io, per esempio, ma ho Bariesi, Bambassa, no, Bariesi l'ho vissuto bene io. Io me li ricordo meno. Mi ricordo un tema all'elementare, non vedavo allora il tuo personaggio sportivo preferito, più quotato nella classe ai tempi, era il 94, tipo, è stato Alberto Tomba. Che i temi. Io chiaramente l'ho fatto su Baresi. Beh dai ragazzi, Baresi, cioè, quando tutti dicono Maldini, difessore più forte, eh? Sì, sì. No, però, secondo me, Baresi, ragazzi. Sandro Onesta. Beh, Sandrino anche, però anche Baresi. Sono lì, loro tre sono lì. La leggenda. Secondo me, loro tre sono lì. Purtroppo sarà per sempre così temo. Mi spiace Ronaldo. Eh beh. All'Inter, Ronaldo ragazzi, era una roba, non guardarmi così bolla, che mi sembra che mi vuole uccidere. No, è vero. Sì, era devastante. Era devastante, Era una roba devastante. Io mi ricordo Ronaldinho, ma al Barcellona. Io non l'ho mai visto, con il Milan. Io l'ho visto, il periodo del Barcellona, veniva a giocare a Milano. Anche perché becchiamamo tutti gli anni. Vinciamo un a zero, Gazzierro. Vinciamo un a zero, Gazzierro diceva. Ronaldinho era impressionante e mi ricordo, sta roba gattusa, una certa lo ferma, esulta tipo gol, la curva esulta. La seconda volta lo tira giù proprio male, la curva esulta ancora di più. Ronaldinho, mi ha impressionato tantissimo e a me è quello, uno che ha nel cuore, proprio, adesso sembriamo lì, ieri, quasi. Molto meglio, molto meglio. Io mi sono goduto, quell'anno che abbiamo metto la Coppa Italia, di cui parlavi, soltanto a tutti di Coppa Italia, giocava a Redondo, che era rotto da due anni, era immobile, ma io un giocatore con quell'eleganza, di un'eleganza, era poesia a Redondo. però il Milan ha fatto, era in te, era in te, era in te. No, era rotto, giocava, giocava in Coppa Italia, che è stata vinta con lui, titola, tanto quella Coppa Italia, era tornato, che ha giocato un paio di partite, Marco e Simone. Grandissimo. Piazza e Core. Adesso non me lo ricordo. Leonardo, Leonardo anche. Era tornato Leonardo anche. Chiudiamo la parentesi Milano, volete andare avanti? No, chiediamo, chiediamo. Volevamo chiederti, bolla, torniamo a parlare un attimo. Un attimo di musica, va bene. Un secondo di musica, poi basta, te la risparmiamo. Primo concerto, della tua vita, eri teso? Sì, per l'unica volta che ho suonato, è stato febbraio 2001, suonavo il basso da poco al Torchiera, che c'è ancora, centro sociale, tra l'altro in Atalanti Clericale, è un appuntamento fisso, ogni 25 dicembre, bellissimo. E ogni volta che torno lì, mi si stringe un cuore, perché è uguale il posto, è bellissimo, loro, non li conosco personalmente, quelli del Torchiera, ma è proprio un centro sociale, che ha un bello spirito, fatto bene, come una volta. Gli è stata l'unica volta, che hai sentito un po' di... Prima di salire sul palco, sono salito, mi sono divertito, mi è volato il tempo, e da lì mi sono sempre gasato, prima di salire sul palco. E c'è deve essere una bella adrenalina, prima di salire di suono. No, ha presa bene. No, adrenalina no. Cioè, quella roba lì da mangi già, non lo so, no. No. No, adrenalina, anche perché, è una roba che fai sempre, cioè, non è che dice l'adrenalina, magari quando è tanta gente, ma ne ha... Però, magari esci, c'è tanta gente. Cioè, quando ho fatto le date, cazzo, con le migliaia di persone, non erano a nome mio, chiaramente. Quindi, quindi, dice anche se smicchio, che chi se ne frega tanto. Non lo so, poi, quando hai tanta gente, o comunque belle situazioni, cioè, le luci del palco, che ti coprono la visuale, sul... Non vedi a un metro. Quindi, no, il palco, mi trovo sempre a mio agio, è bello. Grande, piccolo che sia. Quali piccoli mi casano di più. Cioè, quelli piccoli, che ha il contatto proprio... Col pubblico. Sì, sì, quella roba a me piace molto. Ma questo primo concerto che hai fatto, era da solo o con altri? Ero con la band punk, che avevo con i miei amici, sì. E da solo invece? Beh, da solo a mio nome, c'ho gli altri che suonano con me, però bollatrio così, però ci... Sempre avevo qualcuno che canta, comunque il pianista, il batterista... Cioè, solo solo l'ho iniziato a fare per caso, l'anno scorso, no, due anni fa, perché dovevo fare un giro in sud Italia con il flamenchista, Marco Galvagno, e gli è crollata la casa, la due di Genova, gli è crollato il muro della casa. Quindi, in realtà, mi sono tenuto buono le date, le ho fatte da solo, usando il Mac, il controllo, il contrabbasso, bollatrio, l'ho fatto diventare bolla io. E ho fatto questo giro, ho fatto tutte le regioni del sud, tra le Molise. Mi spiace, ho mai suonato in Molise, l'unica regione in cui non ho mai suonato è Molise. Allora, dal Molise qualcuno invita bolla a suonare. Qualcuno dal Molise non può invitare i Gernia, non lo so. Eh, la scorsa volta abbiamo avuto la Sandra, che di lì adesso, tramite la Sandra, ti troviamo qualche aggancio che fa suonare in Molise. Grande Sandra è gran nome. Eh sì, visto che... Mio figlio si chiama Sandro. In onore di... Non di Sandra. Ciotti. Vabbè, grande. Sandro Ciotti. Se fosse veramente di Sandro Ciotti, grande. Allora, io direi sempre Pertini, comunque. Vabbè, sempre comunque Pertini. Tu le fai anche una domanda sulla moda, perché tu sei esperto, è un po' l'esperto. No, sulla preparazione, cioè quando ti prepari a un concerto, se curi anche l'aspetto del look, se ti prepari il look da usare sul paico, come la prepari, come la vivi? Allora, mi piacciono le camice, la giacca mi piace, però poi dipende di volta in volta, mi piace la giacca con la maglietta sotto, però hanno fatto un concerto con la giacca del kimono, ricamata a mano degli anni 30, che avevo preso in Giappone. Ogni tanto smattare mi piace. Allora, l'unica roba, ma non è matta, perché comunque non suona in contesti da Sex Pistole, ecco. Però una volta suonavo al castello di Binasco, che è sede del comune in un festival jazz, avevo dei pantaloni colorati, strani, la camicia di Lino, che c'era caldo, era estate, ho salito sul palco a piedi nudi. Questa è, diciamo, la roba più trasgressiva, che però mi piace una certa eleganza. Lì la Panicucci non ti ha chiamato. Ma che mi chiamassi la Panicucci, che roba, ma mi dai anche 50 euro. E ti racconta di quella volta che ha sonato a piedi nudi. Io la guardavo al Festival Bar quando ero bambino, che aveva i cappelli lunghi fino a nei cani. Che bello il Festival Bar. Ma perché non mi chiama e mi dice, ma ti do 50 euro. Ma se no rifacciamo noi il Festival Bar. Ma senti, tutto in playback, tanto voglio dire, canto anch'io in playback, che se fregano. con l'autotune. Io l'ho fatto, ma mi è capitato a fare. Infatti, hai suonato in playback? Sì, quando suonavo. No, bellissimo. Questa è una cosa stupenda. Suonavo con un rapper, c'è stato un live in playback. E tu hai fatto come, non so, i Queen, che si sono ribellati, o i Muse, che si sono, i Muse a quelli che il calcio si sono invertiti. Ma in playback, in realtà, quando è che li fai principalmente? Che è una rottura di cazzo infinita nei videoclip. Quello sì, però ti provi a fare magari 10, 15 volte di fila lo stesso playback. e dopo un po', perché devi pure far finta di essere preso bene. E quindi, quello è noioso. I videoclip, me ne ricordo uno in particolare, che è stato veramente noioso. Perché è stato un playback infinito. Invece live dici, vabbè, tanto alla fine lo faccio una volta. La live sto suonando, è bello. Però far finta di essere preso bene, e stare facendo la stessa cazzo di roba, per 20 volte. Comunque è pesante. Sì. Ma invece, ti è mai capitato un live, nel quale ti sei sentito, fuori luogo, a disagio, nel quale ti sei sentito, nel contesto sbagliato? No, sinceramente no. A disagio. Cioè, chiaramente suono anche in situazioni private, sono, insomma, dove, devo dirti la verità, quando suoni, non è che mi scelgo il pubblico, ma è una cosa che devi regalare a tutti. chiunque ha i davanti, chiunque ha i davanti, si merita lo stesso trattamento. quindi se vado a suonare per le mie cose, un atteggiamento, ho lo stesso se vado a suonare a una roba privata, che magari non me ne frega un cazzo, oh, che capita ogni tanto, i matrimoni capitano poco, per fortuna che, però capita, no? Chiaramente è una roba che fai per portare a casa la pagnotta, chiaramente non vado a farle come faccio il mio, però a disagio, allora, mi ha dato fastidio, me l'ha capitato, la gente che, che mi era capitato ogni fa un matrimonio, quelli che ti trattano come un jukebox. Uè, fammi! No, ma poi quando ti dicono, al posto che fammi, mettimi. Mettimi? Ma dove? A me è successo. Dimmi il contrabbasso dove vuoi che te lo metta, perché guarda sono qua. C'è il Liguria, ma chiamate a fare questo matrimonio sulla spiaggia, a Lohano, e in Asciura arriva e fa, mi metti vagabond? Cioè, a parte che siamo in trio strumentali a far gesa, ho un contrabbasso in mano, ma che cazzo ti metto vagabondo? Chiaramente in quei contesti, non puoi mandarli a quel paese, anche se col cuore lo fai di brutto, gli rispondi per quello che meritano, come dei cerebrolesi. Quindi no. Quindi no. La risposta è no. Ma che cazzo, non so neanche gli accordi di vagabondo, non li voglio neanche sapere, cioè, per carità, i vagabondi. No, la band non sono i vagabondi, come si chiamano? I nomi. i nomi, no, vagabondo, io vagabondo, dovremmo fare noi tre, una band la chiamano i vagabondi, e facciamo un pezzo, lo chiamiamo i nomi. Luz, bravo. Però non lo so, non so di chi sia, onestamente. Dei nomadi. Dei nomadi. Dei nomadi. Boh, lei ha preparato un giochino bellissimo con te. Prima di arrivare al punto più bello di tutte le puntate, che è le domandone, dove io ti farò delle domande molto difficili. Bruciabello. Attesissimo. Sì, attesissimo. Per te ho preparato questa cosa, quest'altro gioco, praticamente ho tradotto delle canzoni dall'inglese all'italiano. Sì. Perché i testi sono più belli, no? Tradotti in italiano. Tu devi capire che canzoni sono. Sì. Allora, l'ho fatto con un altro musicista, con Dario, al contrario, cioè dall'italiano all'inglese, secondo me era più facile. Dario Iacuzzi. No, Dario, un mio amico, tu secondo me l'hai conosciuto una serata di quelle in cui ci siamo beccati, clarinettista classico, biondo, bergamasco, cioè bergamasco, la te è di Cornaredo, però, famiglia bergamasca. Quello legamento, Bergamo, Cornaredo. È lì, è lì vicino, è lì vicino. Dario Brignoli. Dario Brignoli. Magari, io non ricordo uno mio. Eh, non te lo ricordo. Vabbè, tanto io adesso è a Tucson, quindi voglio dire, un po' in Arizona. Non si offenderà. Non penso che si offenda. Da quale parto? Sono un po' indeciso, ne parlo da quella più difficile, tra l'altro è difficile anche perché questa è la seconda strofa. Ma le sbaglio tutte. Però è una canzone molto famosa, ma secondo me nessuno l'ha mai tradotta, quindi adesso sconvolgerò un sacco di persone. Ci saranno perché. Le storie tese, tipo lascia esso essere le tibie. No. Cos'è l'elio che traduceva letteralmente. Ah, c'era? Ma forse mai dire gol? No. Ilio, in la storia tese lo facevano. Sì, forse lo facevano lì, esatto. Poi più tardi, sulla strada di casa, ho chiamato sua madre da una cabina telefonica. Ho detto di essere la polizia e che suo marito era in prigione. Questo stato sembra essere... Ma lo voglio di Quino, aspetta. No, questo stato sembra essere caduto in sodomia. E proprio a questo punto la stronza mi ha agganciato il telefono in faccia. Secondo me dopo la capisci. Non piace a nessuno quando hai 23 anni. Questo è il ritornello. Non piace a nessuno quando hai 23 anni. Sei molto divertito dagli scherzi al telefono. Cosa diavolo? È un identificativo di chiamata? I miei amici dicono che dovrei comportarmi come quelli della mia età. Qual è la mia età ora? Qual è la mia età ora? Ok, ok. Blink 182 What's my age game? È l'unica parola del testo che conosco. Bravo. Tra l'altro questa roba quando... Grandi. L'ho trovato detto. Ma cos'è? Bellissima. All'inizio dice I walk alone to get the feeling right. Una roba del genere. Cioè tutti pensano, secondo me, che lui dica I walk alone. Invece dice I walk alone. Cioè indosso colonia, il profumo di colonia. Ah, ok. Già sconvolti anche con questa. È sempre la stessa canzone. Che grande. Pensavo, I walk alone. No, è walk alone. Ok. Ho una pronuncia bellissima. Questa devi saperla, eh, bolla. Paradiso. Sono in paradiso. Il mio cuore batte talmente che riesco... Chick to chick. Ah, se non vado avanti. Amico, sei un ragazzino che fa tanto rumore. Giocando in strada. Un giorno sarai un grand'uomo. Hai del fango in faccia. Sei proprio una disgrazia a bighellonare in giro cantando lo faremo, ti scuoteremo, lo faremo, ti scuoteremo. È la mia vita. Prima hai detto i queen, quindi ti aiuto, sono i queen. Scusa, come inizia? Il ritornello è lo faremo, ti scuoteremo, lo faremo, ti scuoteremo. No, non lo so. E la canzone va così. We will rock you. Ah, sì? We will rock sarebbe ti scuoteremo. Ti scuoteremo sarebbe. Ti scuoteremo, è un testo. Ha quel significato rock come verbo? We will rock you. Non lo sapevo assolutamente. Io lo tradurrei così. Ti scuoteremo. Vabbè, era quella. Chiederemo a qualcuno che parla inglese decentemente. A Freddy non lo possiamo chiedere. Vado con le domandone? Vai. Ah, praticamente sono cinque domande. Se risponderei esattamente almeno tre di queste domande. Quanto devo scommettere? No, è questa. La scommessa è questa. Se rispondi esattamente almeno tre di queste domande potrei continuare a suonare. Se no, Bise, suonerai il contrabbasso al tuo posto. Col tuo nome. Infannierò il tuo nome. Domani, domani qua di fianco. Nei prossimi 15 concerti rovinandoti totalmente la reputazione e probabilmente non potrai più suonare. Immagino. Immagino. A meno che lui non impari a suonare. Tanto c'ho la panicuccia che mi darà da vivere. Vediamo. A me. Mi darà da vivere. Vediamo se ti chiama. Perché è troppo facile. È nato prima il blues o il jazz? Blues. Ok. Vabbè, dai. Vabbè, questo era facile. Vabbè, però facciamo una spiegazione, dai. Prima è nato il blues, figlio dei canti di lavoro degli schiavi afroamericani, intorno alla fine dell'Ottocento. Invece le origini della musica jazz sono... No, il blues e il ragtime. Lo stride e il ragtime che era il piano. Quello delle comiche, insomma. Ok, quel connubio è stata la prima Roma. Le prime cose jazz non erano improvvisate, erano scritte. Sì. Dixieland, il tradizionale, quel mondo lì. Primo disco del 17, tra l'altro. Infatti io qua ho segnato intorno agli anni 20. No, no, 17 il primo. Vedi proprio 17. Si usa il termine jazz, non mi ricordo il titolo adesso perché è la mia memoria. Però è il 17. Nella prima è giusta. Seconda, è nato prima il Milano l'Inter. Milan, 1899. Nati dopo, nati male. Scusa. L'Inter 1908, ma l'Inter in realtà sono dei dissidenti del Milan. No, facevano parte del gruppo milanisti. Tra l'altro c'è la tomba di Chilpi nel monumentale. Ogni volta che vado al monumentale è molto bello da visitare, nessuno va, vado alla tomba di Chilpi. Gli porto un fiorellino anche che non mi ricordo chi una ventina anni fa ha trovato i resti in una fossa comune, l'antumulato, fondatore della C.Milan, non alcolizzato, che è morto prima di 40 anni, era presidente, capitano e allenatore. Bellissimo. Herbert Kemp in piazza. Beh, come Berlusconi. C'è arrivato Berlusconi un po' dopo, ma lui è fatto così. Anche questo a occhio. Quante volte vinse il titolo di mister Olympia Arnold Schwarzenegger? Questa domanda l'ho fatta una volta scorsa. Perché c'è stata la serie, due o tre. Aspetta, 0, 1 o 7? Io questa domanda l'ho fatta una volta scorsa, non c'avevo sbatti di inventarmi altre domande. Ho detto, riutilizziamo una da una volta. No, 1 o 7. 0 no, l'ha vinto. Bravo, allora, o 1 o 7, attenzione. 7, dai, 7. Bravo. Cazzo, c'è risposto esatto. Bolla è preparata, bolla è preparata. L'ho fatta una serie. Continuerai a suonare, bolla, e non suonerà a dire... Ah, ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta. E la Panicucci. A questo punto finiamo le domande, dai, siamo qua. Vabbè, che questa era facilissima. Qual è la città dove è nato il jazz? Cinisello Balsamo, New Orleans o Los Angeles? Cinisello Balsamo. Esatto. Ma di che cazzo stiamo parlando? Esattamente. Quindi, per ora, occhio che con questa fai l'anplay, né? Che dimensione hai il contrabbasso più grande del mondo? Ti do tre. Contrabbasso o ottobasso? Contrabbasso più grande del mondo. 5,55 metri di altezza. Quello è l'octobasso. 5 metri è l'octobasso, non è un contrabbasso. Aspetta, calma, fammi finire. Coglione. Fammi finire la domanda. Fammi finire la domanda. 5,55 metri di altezza e 2,13 di larghezza. Se no, 10 di altezza e 3 di lunghe, di larghezza. Cos'è? 15 metri di altezza e 6,43 di larghezza. Vai. Voglio vederli. Non sapevo. Ma quale dei tre? Devi dare una risposta. Sparo a cazzo, il 10? 10. No, invece era il primo che ha detto 5,55. Eh, no, c'è l'altro. Hai ragione. No, l'ha anche scritto. L'ha anche scritto. Sì, bravo, bravo. Eh, beh, questa era una domanda tra bocchette. Era una domanda tra bocchette. L'Octobus. Perché ho scritto nel 1855 il maestro francese J. Will, che non si dì, come si legge in francese non lo so, Will, ma non lo so, ma non l'avrò copiato anche male, presentò un Octobus, hai ragione, a tre corde, la mostra di Parigi. Ce n'è uno solo funzionante che lo suona, l'ha fatto costruire, non so in che modo, un milanese che si chiama Moneta, mi pare, contrabbassista. Avevo sentito l'auditorio di Carmina Burana con sto robo gigante che non puoi schiacciare con la mano delle leve di metallo che schiacciano e ti sembra andare a sentirla da scrille. C'è una roba bellissima, però l'unico funzionante al mondo l'ha fatto un milanese. Pensa. Grande, penso che anche sto giro una domanda proprio nel... Considerando che una l'avevi riciclata dalla volta prima. E che quella era giusta, però quella almeno era giusta. Bolla, grazie mille per essere venuto qua da noi a farti torturare. Non abbiamo detto che dovete seguirci anche a noi oltre che a Bolla Trio. Ma a Bolla soprattutto andate a sentirlo il 3 novembre a Bellezza, in via Bellezza. Voi iscrivetevi al nostro canale Instagram, YouTube, Spotify, Facebook, TikTok e ci siamo anche su Apple Podcast da una settimana. A voi non vi costa niente mettere iscriviti per noi invece vuol dire tantissimo. Continuate a ignorarci. Maledetti. Noi vuol dire tanto. c'è lo scopo della nostra vita è raggiungere almeno 3 milioni di followers. Dopodiché basta. A quanti siamo? No, molti meno. Su Instagram va a 350. Vabbè. Ci manca poco. Ad maiora. Buonanotte. Ciao. 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 Grazie a tutti.